Giacomo Stucchi, ancora una volta la Lega a cui Bergamo risponde, l'affluenza è davvero alta? Sì, l'affluenza alta è un buon segnale, un ottimo segnale per la salute del movimento, ma soprattutto perché i militanti hanno capito l'importanza di questo momento, l'importanza storica per la prima volta chiamati a scegliere direttamente il nuovo segretario federale, una scelta che è stata premiata dalla loro partecipazione, quindi condivisa dalla base. È una scelta che impegnerà anche i delegati al congresso. Scelta particolare strana per la prima volta nella Lega, le piace? Molto, nel senso che il sistema primario dovrebbe essere utilizzato a qualsiasi livello, per la scelta dei candidati sindaci nei comuni, per la scelta dei candidati consiglieri regionali, parlamentari, a qualsiasi livello perché se hai la condivisione sulla tua candidatura della base, della militanza vera, quella che tutti i giorni tira la carretta, allora vuol dire che sei una persona che è ritenuta giusta per ricoprire certi ruoli. Se invece pensi di importi solamente perché sei l'unico che magari ha un titolo di studio o pensa di poterla sapere più lunga degli altri, questo non va bene, non è la Lega che piace a me. E a Spirano abbiamo sentito le richieste di Bergamo al futuro segretario, trasparenza, primarie, qual è quella che sente più sua? Ma tutto sostanzialmente, penso che il nuovo corso della Lega, meglio definirlo così piuttosto che nuova Lega, che mi piace meno, debba essere un corso caratterizzato da un'inversione della piramide come è scritto nei documenti approvati, cioè dal fatto che la militanza possa effettivamente non solo controllare ma decidere. Ecco, passiamo da un sistema in cui uno solo decideva a un sistema in cui vi è la condivisione della scelta finale, sapendo che comunque una scelta va fatta. Ecco, a molti sarebbe piaciuto anche poter mettere la crocetta sul suo nome. Ma sì, non ho raggiunto le firme, non è questo il problema, il problema è avere delle persone su cui poter esercitare una scelta e oggi ne abbiamo due, quindi io mi auguro che le persone su entrambi i candidati facciano delle riflessioni e facciano una scelta migliore. Io la mia scelta l'ho fatta e penso che sia giusto che tutti facciano altrettanto. Le primarie del PD hanno qualche differenza, può votare chiunque passi per strada e devono dare due euro a testa. Sì, a parte il problema dei soldi che è un problema tra virgolette loro, nel senso che a me sembra folle chiedere un contributo per poter dare un'indicazione importante politica per il futuro di un movimento, di un partito come quello del PD. Credo che comunque noi ci caratterizziamo dal fatto che chi viene qua a votare è veramente la parte che porta la Lega e rappresenta la Lega in giro per i territori. E quindi è quella parte di Lega che rappresenta l'anima del nostro movimento. Quindi sono quelle persone che hanno diritto più di tutti, più di colui che passa per caso su un marciapiede vicino a un gazebo a esprimere una scelta per il segretario. Ed è una Lega sempre più di battaglia, lo è anche giù a Roma in Parlamento? Voi ci state dando davvero... È una Lega di battaglia, è una Lega di lotta, è una Lega che cerca di difendere gli interessi della nostra gente, naturalmente con le difficoltà che ci sono dei numeri esigui rispetto ad altre legislature. Però con dei colleghi tosti, sia la Camera che il Senato, che non ne fanno cadere una per terra al governo. Grazie. Grazie.